Musica Buonasera Massimo Polidoro Buonasera Allora sappiamo che nel campo dell'informazione esiste la famosa regola della par condicio cioè su un dibattito pubblico si dà voce alle diverse posizioni e questo ovviamente è giusto in politica ma nella scienza le cose vanno molto diversamente Eh sì, non può esserci equivalenza tra la posizione che ha la maggioranza la stragrande maggioranza della comunità scientifica e una minoranza magari disinformata o screditata di qualche tipo lo vediamo in tanti ambiti questo in particolare oggi sarebbe come mettere sullo stesso piano i geologi e quelli della terra piatta però lo vediamo per esempio nel campo del riscaldamento globale dove c'è una grande maggioranza di scienziati che ormai ha dimostrato in maniera inequivocabile il fatto che sia l'uomo a provocare il riscaldamento e una minoranza che invece lo nega Ecco, però molta gente lo pensa comunque dove sta il problema? Ora, l'inghippo sta in quelli che si chiamano mercanti di dubbi e c'è un libro in effetti che è intitolato proprio così di due storici della scienza americani che ricostruisce tutta questa storia che ha accompagnato 50 anni di scienza e politica soprattutto negli Stati Uniti ma non solo in cui si è cercato in maniera sistematica di disinformare il pubblico per rallentare magari decisioni politiche che avrebbero avuto conseguenze sui commerci o su certi tipi di industrie quindi si alteravano le informazioni nascondendo i fatti scientifici mettendo in evidenza quelli che li avrebbero negati Sì, è come dire che se due sono in disaccordo e diecimila no su una certa questione si intitola la comunità scientifica e divisa, questo non è vero ma quando è cominciata un po' questa pratica? Anche il libro la cita, lei mi diceva Sì, è iniziata negli anni Sessanta quando ci si è resi conto che il tabacco faceva male perché gli studi ormai si accumulavano e si vedeva che il fumo effettivamente faceva malare le persone e le portava addirittura alla morte allora le industrie del tabacco hanno pensato di intervenire per evitare di vedere crollare i propri profitti intorbidendo le acque si potrebbe dire quindi finanziando ricerche che sostenevano la propria causa e cercando di screditare invece gli studi scientifici e sono riusciti a ritardare o impedire in parte la messa al bando del tabacco poi come è avvenuto ricordo negli anni Sessanta lì c'è stata una grande battaglia Assolutamente ci è voluto una generazione per riuscire a introdurre delle regole più rigide sul fumo e sulle conseguenze che aveva il fumo però si diffondeva e qui vediamo una pubblicità dove addirittura i medici consigliavano di fumare delle sigarette e nella mentalità delle persone c'è voluto del tempo per cambiare questa idea Tra l'altro c'era un caso diverso ma che ricorda un po' questa situazione col caso di Bella che a volte ricordo e poi anche con Stamina perché erano pratiche poi smentite dalla comunità scientifica però i malati richiedevano gran voce queste cure e certi medici li spalleggiavano e allora si è creata in queste situazioni anche qui la par condicio creando molta confusione Assolutamente qui è comprensibile il desiderio dei malati dei familiari dei malati di trovare una soluzione a problemi di salute che magari una soluzione scientifica non potevano avere e chi promette miracoli in genere trova sempre un pubblico pronto ad ascoltarlo e allora diamo voce anche a chi porta posizioni diverse ma il problema come dicevamo è che servono delle prove e in questi casi le prove scientifiche non c'erano come si è poi visto salvo poi però aver dato spazio e credibilità a pratiche del tutto screditate spesso prevalgono le emozioni eh sì noi dovremmo in certi casi cercare di stare attenti e utilizzare le nostre capacità analitiche ma le emozioni come sappiamo offuscano la nostra capacità di giudizio la razionalità richiede uno sforzo ma è uno sforzo che è importante fare grazie Massimo Polidoro grazie grazie